Salve, benvenuti a questa breve presentazione di un tutoriale con istruzioni sulla pubblicazione dei verbali dei consigli di classe che richiedono particolare attenzione. Il primo passo da fare è accedere alla piattaforma di Dapp con le proprie credenziali. Una volta entrati nella piattaforma, occorre accedere alla Bacheca, che è lo strumento base di gestione delle comunicazioni verso le categorie di utenti della scuola. Entrati in Bacheca, bisogna cliccare nella barra a sinistra su Gestione Bacheca. Troveremo l'elenco dei messaggi. La pubblicazione di un verbale è la pubblicazione di un documento. La procedura del resto non è diversa da quella standard per la pubblicazione di qualsiasi comunicato in Bacheca. Faremo quindi clic in alto a destra sul pulsante Aggiungi. Andremo ad indicare la data di pubblicazione e la data di disponibilità. Il verbale di un anno scolastico deve essere disponibile perlomeno fino al 31 agosto dell'anno scolastico stesso. Cliccando quindi sul calendario andremo a selezionare agosto del 2020, ok, e indicare come giorno il 31. La descrizione deve essere ordinata e chiara. Verbale, consiglio di classe della quinta D, numero 1 del 12-12-2019. L'URL lo lasciamo in bianco, non ci interessa, non ci sono link. Andremo invece a selezionare con attenzione la categoria che consente poi, successivamente, a chi gestisce i dati, di trovare in quella categoria tutti i documenti ad essa pertinenti. E' stata già creata a livello di dirigenza la categoria Verbali dei consigli di classe, ed è questa che andrà selezionata. Reso visibile, si andrà nella seconda scheda, legati ad aggiungere il documento in questione, file Word o PDF. Cliccare su aggiungere, selezionare il documento, prendiamo in questo caso uno a caso non pertinente, e dare una descrizione, anche questa precisa. Confermiamo, e abbiamo quindi allegato il documento, e selezioniamo i destinatari. In questo caso, dobbiamo stare attenti a scegliere la classe giusta. Naturalmente, anche qui, ribadiamo che la gran parte dei professori potrà selezionare solo le classi nelle quali egli insegna, e nessun'altra classe. Mentre i docenti con abilitazioni speciali, vale a dire lo staff di presidenza, direttori di dipartimento, i docenti di educazione fisica, i docenti con incarichi speciali, hanno la possibilità di selezionare anche classi non proprie. Ma, nel caso della pubblicazione di un verbale di consiglio di classe, bisogna ovviamente selezionare la classe a cui esso fa riferimento. Sceglieremo quindi, nella struttura scolastica, le classi che ci interessano, o meglio in questo caso la classe che ci interessa, la quinta D, e confermiamo. E dobbiamo andare anche ad indicare i destinatari, le categorie di destinatari. In questo caso, sono destinatari di verbali, bisogna decidere volta per volta, se è un verbale intermedio di una riunione di consiglio di classe, allora può avere come destinatari sicuramente i genitori, gli alunni e i docenti. In altri casi, invece, dipende dalle circostanze, è probabile che né alunni né genitori debbano avere accesso a quel verbale. Quindi è una valutazione che deve essere fatta volta per volta. Quando abbiamo spuntato i destinatari, in questo caso genitori, alunni e docenti, possiamo anche chiederne la presa visione, perché in questo caso noi saremo sempre in grado di poter poi, a posteriori, sapere chi ha aperto il documento, chi ha visualizzato il documento e chi no, e comportarci di conseguenza sulla base di queste informazioni. Presa visione chiesta ai genitori, presa visione chiesta agli alunni, presa visione chiesta ai docenti. Facendo salva, chiuderemo il processo di pubblicazione del verbale. Dipende naturalmente anche da problemi di connessione. In questo caso, ecco qui, quindi in ordine di tempo, noi in cima avremo l'ultimo documento pubblicato, verbale dei consigli di classe, scade il 31 agosto, il documento allegato, i destinatari sono genitori a cui è stata chiesta la presa visione, PV, alunni con presa visione, della quinta D, docenti, PV con presa visione. Dopodiché, potremo anche eventualmente cancellarlo, oppure verificare, ecco, a posteriori, quali soggetti di questa categoria abbiano preso visione del documento. Dopo che qualcuno ha preso visione del documento, quel documento non potrà più essere cancellato, ma soltanto reso invisibile, ma resterà comunque nell'archivio digitale di Argo.dapp. In questo caso, è probabile che potremo cancellarlo, perché è una prova simulata e nessuno ha preso visione di questo documento. A questo punto, il processo è finito. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.